Allora non può mancare ormai una data attesa da tutti, una serata di grande successo, i barzellettieri, coloro che fanno ridere con una battuta. Speriamo che venga qualche concorrente nuovo perché io sono stanco, cinque anni che racconto i barzelletti, ormai non mi crede più nessuno, quando mi incontro per la strada è quello delle barzellette, ormai c'ho quell'etichetta lì. A parte che la serata è sempre gustosa anche perché viene presentata dai ragazzi del San Costanzo Show e quest'anno ci sarà anche Bicio che ha vinto l'ultima. Però veramente cerchiamo dei concorrenti nuovi, iscrivetevi, vi buttiamo anche sul palco senza nessuna selezione. Volevamo dare un'impronta diversa anche perché sempre quelli poi dopo stanco, come dice la solita minestra un po' stanca. Perciò se avete voglia e avete questa capacità di raccontare le barzellette vi aspettiamo volentieri qui alla Cooperativa Tre Ponti e vi buttiamo come si dice sul palco. Grazie. 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 Grazie.